Francesca Fialdini è nata a massa nel 1979, è alta un metro e 70 centimetri. Approdata in Rai nel 2005 è stata per anni volto della trasmissione a sua immagine, ricoprendo diversi ruoli, per poi passare nel tempo attraverso Uno Mattina, Lo Zecchino d'Oro e La Vita Indiretta. Ecco 5 cose che forse non sai su Francesca Fialdini. Ha giocato a calcio a livello amatoriale nella sua città natale ed è una canita tifosa juventina. Leggeva testi universitari per aiutare i ragazzi non vedenti nello studio. Per mantenersi in forma pratica regolarmente nuoto e sci e per apparire sempre in ordine usa maschere naturali per capelli a base di canapa e olio di argante. Le è stata attribuita a una relazione con PIF mai confermata. Nel 2016 ha dato alle stampe il romanzo Il sogno di un venditore di accendini con le edizioni Città Nuova. Grazie a tutti. Grazie a tutti.